Il nostro gruppo Facebook, eccolo qui, benissimo, eccoci qua, vediamo se l'ha preso, ottimo, siamo collegati anche al gruppo Facebook. Buonasera Maurizio, buonasera, buonasera a tutti, eccoci qua, di nuovo un webinar del lunedì, vi sposto a destra, eccoci qua, buonasera, siamo in compagnia stasera di Luca Revell-Nuttini, ah c'è anche Max, ciao Max, nostro consulente della campagna, siamo in compagnia di Luca Revell-Nuttini e del suo cliente, il dottor Massimiliano Pelliccia dello studio di Ancona. Stasera ci parleranno della loro esperienza, soprattutto diciamo dell'esperienza del dottor Pelliccia e del suo percorso, di quello che ha fatto insieme a Luca, insieme a OSM Dental e dei risultati che ha ottenuto dall'inizio fino ad oggi, sta ancora continuando il suo percorso, ma lascio a loro la parola che vi parleranno appunto di come è iniziato il rapporto, quali sono stati gli step vincenti che hanno fatto e anche gli sforzi di Massimiliano, del dottor Pelliccia che ha dovuto affrontare, però i risultati li stai ottenendo Massimiliano, quindi siamo molto contenti per te. Benvenuti a tutti intanto. Buonasera, buonasera a tutti. Luca, ti lascio la parola così nel frattempo faccio entrare anche gli altri partecipanti, ok? Va bene, grazie mille Oriana. Allora, buonasera a tutti. Come diceva Oriana appunto, io sono Luca Revel, sono consulente signor responsabile di aria di OSM Dental e stasera sono qua perché più che parlare io, voglio dire, raccontarvi qualche cosa io sono qui per presentarvi il dottor Massimiliano Pelliccia che è un dentista di Ancone che poi vi racconterà chi è e cosa fa e vi racconterà soprattutto qual è la sua esperienza con l'azienda OSM Dental e con il suo consulente che sono io. Per sua enorme fortuna sono io. Lasciamo che lo dica lui. Assolutamente. No, ma io lo dico per portarmi avanti così almeno. Allora, scherzi a parte, io direi che la cosa migliore è lasciare che sia lui a iniziare a raccontarci e poi così seguiremo una serie di argomenti e poi ci saranno anche delle domande e ovviamente se qualcuno avrà piacere di fare delle domande le scrive nella chat in maniera che alla fine potremo rispondere. Quindi passo la parola a Massimiliano e buon webinar a tutti. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Io, come hanno appena detto, sono Massimiliano Pelliccia, medico e odontoiatra di Ancona. Ho 38 anni e sono il co-titolare dello studio Dentisti Pelliccia di Ancona insieme a mio padre Riccardo. Che dire, allora, innanzitutto vi posso descrivere il mio studio e la storia del mio studio. E perché mi sono avvicinato e ho intrapreso il percorso con OSM Dentale e ho conosciuto Luca Reve. Allora, lo studio in realtà nasce ovviamente con mio padre praticamente 30 anni fa. Era il classico studio monoprofessionale con due poltrone, con un aso assistente, segretario Tuttofare, ed era il classico studio ricavato da un appartamento ristrutturato a modi di studio dentoiatrico. Diciamo che ha sempre avuto, come dire, una conduzione regolare grazie a mio padre e la gestione, diciamo, di questa segretaria Tuttofare e nel frattempo io crescevo e mi laureavo prima in medicina e poi successivamente per mia testardaggine provai ad entrare a odontoiatria perché è sempre stata, come dire, la mia passione che però fino a quel momento non ero riuscito ad esprimere anche perché con il test d'ingresso quella volta entrai a medicina e non a odontoiatria e quindi a quel punto completai quel tipo di percorso molto serenamente e ne sono anche molto fiero, però allo stesso tempo una volta terminato mi era rimasto questo pallino di affrontare la possibilità di poter diventare odontoiatra. Non vi nego, è qui che viene fuori anche il percorso con OSM, che mio padre, che è una persona straordinaria, un professionista straordinario, in qualche modo mi aveva anche un po' preparato a una situazione potenzialmente difficile, in quanto ovviamente lui in prima persona ha vissuto un grande cambiamento, quello dell'odontoiatria, come dire, degli anni d'oro, in cui, come dice Pinuccio Massaio, bastava mettere la targa fuori e i pazienti entravano senza dover fare nessuno sforzo. Non si sente? C'è qualche problema di audio? Adesso aspetta, aspetta, guarda Massimiliano, vai pure, sai, intanto sto controllando e... Ok, e come dicevo, ecco, quindi mio padre in qualche modo mi aveva messo in guardia, in guardia sul percorso che avrei dovuto affrontare, sinceramente anche cercando un po' di dissuadermi a prendere questa strada, proprio perché lui in prima persona stava vedendo grandi cambiamenti e anche delle difficoltà, se vogliamo, nell'organizzazione dello studio. Io in realtà credevo molto nel fatto che qualcosa doveva essere cambiato, sentivo che questo qualcosa l'avrei potuto fare io col suo aiuto, proprio approfittando dell'esperienza di mio padre e anche, se vogliamo, del pacchetto pazienti che lui in quei 30 anni era riuscito a costruire, a mantenere. E quindi, quasi come una sfida, presi un pochino in mano la situazione. E devo dire anche qui, un'altra volta, mio padre è stato molto longimirante, molto bravo a lasciarmi fare. Ha fatto un passo indietro. Ha fatto un passo indietro, restando sempre in realtà a mio fianco. E a quel punto, una volta presa in mano la situazione, capivo che certe cose, dal punto di vista gestionale, erano difficili da organizzare. Però, tuttavia, tutto quanto funzionava abbastanza bene, perché io ancora non ero veramente operativo. Stiamo parlando degli anni 2000... Allora, io mi sono laureato nel 2015. In realtà, ho iniziato a frequentare lo studio di mio padre già dal giorno dopo che mi sono laureato in medicina, quindi nel 2009, proprio con l'idea di diventare odontoiatra. E in quel momento, quindi, ancora non ero attivo come odontoiatra. E tutto sommato, la mia presenza era marginale. E in questo contesto, la famosa segretaria Tuttofare, la carissima Betta, era un po' il pilastro portante dello studio. A quel punto, negli anni a venire, successivamente, io sono invece entrato a far parte del team e è lì che sono venuti i nodi al pettine, perché la gestione già di due odontoiatri insieme, nello stesso stabile, con una sola risorsa umana, che faceva tutto, dalla segreteria all'assistenza, a quel punto cominciava a diventare un po' una macchina pesante, difficile, con i primi problemi. Allora è lì che mi sono in qualche modo appassionato, mi sono avvicinato a tutto quel mondo che adesso ormai comincia ad essere strutturato, di situazioni che aiutano in qualche modo gli studi odontoiatrici a organizzarsi, a far sì che lo studio odontoiatrico, come dire, possa funzionare più come un'azienda che come un singolo e semplice ambulatorio. E diciamo che dopo questo primo step, purtroppo la vita è strana, un fatto molto grave ci ha portato via beta, questa famosa assistente segretaria factotum tuttofare, in maniera molto repentina, una malattia molto grave, velocissima. E come tante volte nella vita dei traumi, delle situazioni, come dire, molto gravi, ti fanno fermare e cerchi di trovare una soluzione al tutto, io ho messo un like su Facebook a OSM e come poi OSM ti insegna, questo like ha scatenato una macchina nei minuti successivi, non nei giorni successivi, nei minuti successivi è scattata una macchina e che ovviamente io fui contattato, praticamente fui contattato quasi all'istante. È lì che ho il contatto, il primo contatto solo telefonico con il carissimo Luca Revell. Adesso ci fai apparire come una specie di storno di stucca, pronta a scendere in picchiata. No, semplicemente ho anticipato il fatto che nel marketing se fai un'azione devi essere pronto a rispondere. Assolutamente sì. E quindi l'avete dimostrato in maniera magistrale. Ebbene, se no predicheremo bene e razzoleremo male. Ed ecco che è iniziata questo rapporto telefonico con Luca Revell in cui io ovviamente ho manifestato questo problema che stavo vivendo anche dal punto di vista psicologico in maniera molto forte, la perdita della nostra segretaria Factotum e quindi al di là dell'aspetto psicologico importante c'era anche un aspetto tecnico che io avevo difficoltà a gestire. E in tutto questo quindi Luca mi ha, come dire, corteggiato, mi ha corteggiato per un mese e mezzo e in questo mese e mezzo ci siamo conosciuti. Abbiamo fatto conoscenza, ha capito chi ero o cosa volevo e quindi questo, anche questo è un aspetto molto importante perché in qualche modo quello che sarebbe stato il mio tutor ha cercato di capire anche le mie esigenze con cui fare poi successivamente un programma. Ed ecco che infatti esattamente un anno fa iniziavano queste telefonate, praticamente era prima di Natale e del 2020. Nel 2021 io a gennaio firmavo un contratto con Luca e in questo contratto anche qui c'è stato, come dire, una fase, potremmo dire, di trattativa in cui abbiamo cercato... Io ovviamente immaginate Massimiliano Pelliccia che comunque si deve sempre rapportare con il mio cotitolare, il mio socio che è mio padre che nel suo essere straordinario ha fatto questo passo indietro, mi sta a fianco, ma comunque ha la sua esperienza a 67 anni e quindi, come dire, ha radicate anche in sé delle convinzioni, un'esperienza tale per cui non è semplice, non è così semplice far abbracciare un percorso nuovo. Ed ecco che in questa trattativa io ho coinvolto anche mio padre proprio perché alla fine abbiamo raggiunto un risultato, un risultato in cui con Luca Revell si è fatto un programma e questo programma in realtà, come dire, molto bello, molto articolato perché è stato un programma in cui io dovevo affrontare più aspetti. Sicuramente l'emergenza, quella che dovevo trovare assolutamente nel più breve tempo possibile una risorsa umana che avrebbe ricoperto il ruolo di segretaria. Quindi c'è stata anche, come dire, la conoscenza da parte di OSM, da parte mia nei confronti di OSM, di questo aspetto, di questo aspetto che è un po' diciamo particolare, la selezione del personale. E poi dovevo affrontare tutti quei problemi gestionali, organizzativi di uno studio partendo da zero, perché l'esperienza di 30 anni, se non ha un contenitore strutturato, c'è il rischio di perderla o di non sfruttarla al massimo. Ecco che, ecco che, ecco quindi questa è la mia storia, questo è stato il mio percorso che è iniziato esattamente quindi a gennaio di quest'anno. Non solo, vuoi... Sì, allora io ho iniziato a dialogare con lo studio Pelliccia, principalmente con Massimiliano, e manavano ho trovato due persone, molto diverse tra loro ovviamente, due splendide persone, perché voglio dire, Massimiliano lo vedete, ma suo papà Riccardo è una persona splendida, a sua volta poi è un motociclista, e quindi non può non piacermi. E ho trovato soprattutto in Massimiliano questa carica, questa voglia di fare, questa consapevolezza di dover fare qualche cosa in più. La parte iniziale non è stata, sì è stata mettere a punto il programma e poi fare anche con questa trattativa, ma c'è stato anche un altro aspetto molto, molto importante, e cioè far comprendere, e Massimiliano poi l'ha ben ben compreso, che il percorso non era solo cambiamo l'organizzazione, introduciamo delle metodologie, eccetera, ma era proprio, come dire, un cambio di paradigma, no? Un cambio di idee, e anche una crescita personale. E a un certo punto Massimiliano ha molto ben compreso questo, e al di là della trattativa che abbiamo fatto, abbiamo trovato un modo che, no? gli desse anche sufficiente sicurezza nell'affrontare, no? Questo programma, che comunque era articolato, come dire, lui si è convinto di questo, e devo dire che poi ci si è messo veramente con un'energia, una passione e una voglia di fare, fantastiche. E infatti mano a mano i risultati sono arrivati, mano a mano, guardate, nell'arco di un po' di mesi, e non siamo perché, voglio dire, lavoriamo da un anno, no? Dall'inizio dell'anno, no? Quindi da 11 mesi. E i risultati sono arrivati, noi avevamo diviso il programma in tre pezzi, e in maniera che, no? Ci fosse anche un po' di, io ho detto, guarda se, se facciamo così, lo dividiamo in tre pezzi, così se a un certo punto tu, non sei più convinto, ti puoi fermare, voglio dire, no? Non c'è nessun problema. Come potete bene immaginare, i tre pezzi sono andati avanti tutti, quindi stiamo terminando l'ultimo, praticamente siamo proprio alle ultime cose, e insomma, io ritengo, ma questo poi, devo dirlo Massimiliano, che siano arrivati anche i risultati, e intendo quelli economici, ma non solo, no? Nel senso che ci sono state delle, insomma, la nuova segretaria, il clima all'interno, no? Dello studio, la motivazione delle persone, e poi Massimiliano, che ha fatto un grande step in avanti, ma proprio grande, sotto tanti punti di vista, e quindi... Beh, assolutamente, tutte cose appunto, vere e reali, primo fra tutti, il mio timore. Io, io, mi sentivo pronto, ma non, non sapevo cosa andavo incontro, e soprattutto la mia paura era che non sarei stato in grado di trasmettere tutte queste informazioni, tutti questi cambiamenti a mio padre e a tutto lo staff, e quindi all'inizio ero veramente intimorito, intimorito perché appunto ci sono tante difficoltà, il primo fra tutti l'ha detto prima Luca, la voglia di cambiare paradigma, ma avevo sentito il bisogno di cambiare formula, anche nel modo di approcciare i ragionamenti e le persone. E infatti, infatti, non vi nego che tra le prime cose che abbiamo fatto è stata una, due giorni molto intensi che io ricorderò, penso, per sempre, in cui io e Luca, cioè, praticamente abbiamo fatto un percorso di efficienza personale. In questo percorso, in qualche modo, senza che ve lo vada a descrivere, anche perché magari, per chi ci ascolta, ci sarà magari qualcuno che intraprenderà questa cosa ed è giusto che la viva in maniera diretta e personale, senza nessuna anticipazione, però vi posso assicurare che è un percorso che va a toccare veramente la parte più intima di tutti noi o di chi lo fa e al punto da uscire fuori alla fine di questo percorso pronto, carico per ricominciare, per ricominciare a porsi in un certo modo nei confronti delle persone, quindi dello staff, per esempio, nei confronti dei pazienti, nei confronti delle difficoltà. È un modo, come dicono loro, giustamente nelle varie fasi teoriche, controintuitivo e quindi è un qualcosa che va contro quasi il nostro istinto, il nostro modo di ragionare più semplice, più diretto, più ergonomico forse, ma in realtà magari meno efficiente. Ecco che questo è stata anche un'altra cosa, un altro elemento che mi ha dato la carica in più per credere nelle operazioni di OSM e in quello che stavamo facendo. Nel frattempo ho vissuto in maniera indiretta e diretta la selezione del personale. Altro aspetto che in una in una studio, in uno studio dontoiatrico non è da sottovalutare, anzi direi che le risorse umane come in qualsiasi azienda ma in qualsiasi contesto lavorativo valgono molto di più di a volte di investimenti su macchinari o tecnologia che assolutamente nel nostro campo è la base. Dato per scontato che questo viene fatto l'aspetto delle risorse umane è un'altra cosa che in passato non si teneva conto. Solitamente spesso c'era un familiare la moglie del titolare a volte se si cercava qualcuno che doveva venire al lavoro si cercava si cercavano persone che che avessero esperienza in quello che avevano avrebbero dovuto fare tutte cose che con OSM non sono state fatte cioè hanno fatto esattamente il contrario perché OSM applica prima di tutto un principio la ricerca delle potenzialità delle persone e quindi ogni soggetto io stesso siamo vengono sottoposte a dei profili a dei questionari anzi dei questionari in questionari abbastanza lunghi che che una volta compilati delineano un high profile un profilo un profilo molto bello molto articolato che in qualche modo sono la radiografia della persona che si ha davanti e da una parte quindi è stato bello scoprire il mio profilo che ovviamente ha delle caratteristiche come dire positive e altre negative con questo però guarda Massimiliano non è che siano negativi o positivi in realtà non è che negativi dove si può lavorare dove c'è da lavorare aree di miglioramento immaginate un po' è come se uno avesse ah sono attitudini no ci sono una serie di attitudini che in un momento nel momento in cui ovviamente si fa questo questo questionario no si riescono a mettere in campo bene altre che si mettono in campo abbastanza bene altre magari si fa un po' fatica a mettere in campo ecco questa è la radiografia e quindi poi si lavora per migliorare quelle con cui magari si fa un pochettino più fatica e la potenza di questo strumento è proprio questa fare un po' questa questa radiografia come giustamente hai detto tu no? è estremamente oggettiva perché al di là delle impressioni che noi tutti essendo esseri umani quindi in qualche modo anche animali sotto sotto riusciamo a percepire delle vibrazioni che possono darci le persone che abbiamo di fronte però magari non le sappiamo decifrare e in qualche modo possono anche deviarci possono anche ingannarci o in qualche modo portarci fuori strada con questo strumento diciamo che abbiamo un qualcosa di oggettivo che che in qualche modo ci dà una certa anche garanzia se vogliamo ed ecco che ho vissuto con loro proprio questo la selezione del personale tra l'altro la prima tornata tra l'altro un'esperienza per me molto stressante perché Luca che evidentemente è estremamente abituato a farlo la svolte era sempre con me o in collegamento o in presenza è sempre stato con me e quindi faceva un po' da regista a questi colloqui che erano dei colloqui a delle persone che erano state selezionate da OSM in base appunto a questi high profile e io invece non avevo mai fatto una cosa del genere in qualche modo per come sono fatto ero quasi dispiaciuto ogni volta che la ragazza si alzava e vedevo quanto si era sforzata a descriversi a essere lì presente disponibile e in qualche modo vendere se vogliamo la sua professionalità le sue capacità e io quindi per un attimo le avrei prese tutte spesso c'erano anche mamme che avrebbero fatto chilometri per venire a lavorare e quindi dopo scatta la mia la mia umanità forse esagerata da 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 cancro e io ero dispiaciuto ogni volta che si alzava è stata una cosa un po' stressante però fortunatamente grazie OSM che che ti guida che Luca che mi ha assistito alla fine alla seconda tornata abbiamo trovato Silvia la nostra segretaria attuale che è una ragazza straordinaria da un profilo come dire micidiale sulla carta e lo sta già dimostrando l'ha dimostrato subito che che questo questa cosa che che vedevamo leggevamo su questo su questo profilo in realtà era anche qualcosa di concreto ed ecco che avevo un'ulteriore certezza che stavo facendo bene e tutti questi step mi hanno sempre un pochino aiutato a credere in quello che dovevamo fare e andare avanti tutto qua ecco ovviamente insieme a questo poi perché noi non siamo dei coach motivazionali o meglio ovviamente crediamo assolutamente nella motivazione delle persone perché è fondamentale ma poi ci sono tante altre cose abbiamo fatto cose molto più come dire pragmatiche tecniche tipo per esempio un'analisi finanziaria con verifica dei tariffari per controllare in una maniera non realistica reale quali sono i margini quanto si guadagna prestazione per prestazione questo ci serve per verificare listini ma anche per programmare l'agenda e poi abbiamo lavorato sulla leadership ma abbiamo lavorato anche sui manzionari stiamo lavorando sui protocolli quindi l'altro bellissimo è stato proprio la costruzione dei manzionari anche nell'ottica sempre relativa al fatto delle risorse umane all'aspetto delle risorse umane nell'ottica che un studio dontoiatrico potrebbe essere potenzialmente anzi è potenzialmente un luogo dove le risorse umane continuamente possono essere arricchite anche perché io ci sono già passato mai muoversi in uno stato di emergenza e quindi in qualche modo avere un serbatoio da coltivare da costruire è molto importante il manzionario il manzionario in qualche modo è sicuramente un lavoro interno bello perché ci si ferma e si vanno a descrivere le varie fasi che compongono la nostra routine la nostra routine lavorativa e quante volte tornare indietro a rivedere i passi che compiamo tutti i giorni è anche un modo per accorgerci di alcuni errori di migliorarli e anche se vogliamo misurarli e di conseguenza è stato un lavoro di arricchimento per noi per prendere coscienza di come facevamo le cose abbiamo coinvolto tutti perché abbiamo fatto delle riunioni tutti insieme in cui ci siamo divisi anche i manzionari da compilare da creare e poi così ho un testo ho un libro con tutti i manzionari che per le nuove le future risorse che entreranno a far parte del nostro team con quello in mano una volta studiato il percorso all'interno di queste persone nuove di inserimento sarà molto più semplice molto più logico e quindi è un qualcosa di molto importante per quanto riguarda anche il piano di espansione piano di espansione avere delle definizioni interne come le che cos'è una meta che cosa sono gli scopi ti fa fermare e ti fa progettare perché noi possiamo anche aver voglia di salire di aumentare di crescere e immaginiamo che lo facciamo con una scala ma questa scala va appoggiata al muro giusto perché c'è caso che una volta arrivati su in cima ci rendiamo conto di averla appoggiata al muro sbagliato e ci guardiamo intorno e non siamo nel posto nostro dove vogliamo essere e quindi come viene fuori anche nelle sette regole di Steve Covey per il successo come dire la meta la fine in testa imparare a avere la fine in testa questa fine in testa questo modo di approcciare il lavoro in realtà uno lo può anche utilizzare nella vita quotidiana anche nei rapporti familiari nei rapporti con gli amici avere sempre la fine in testa per capire come svilupparsi e come organizzare le cose no Luca? certo assolutamente bene allora io a questo punto passerei come qui ci sono i tre punti le tre fasi di questa di quest'oretta passerei a delle domande che saranno relativo ovviamente alla tua esperienza con SM Dental intanto questo è uno scorcio dello studio Pelliccia che è molto bello il nostro studio diciamo ah ecco tra i vari cambiamenti che come dire in cui ho coinvolto mio padre in maniera abbastanza abbastanza importante abbastanza pesante anche dal punto di vista economico io ho fatto spostare la posizione siamo andati via dalla vecchia storica sede che era una situazione come vi dicevo prima era il classico ambulatorio ricavato da un appartamento al primo piano con delle scale per arrivarci un ascensore poco comodo e soprattutto una posizione della città come dire un pochino più marginale meno centrale sicuramente servita eravamo prima vicini alla stazione però come molti sapranno spesso e purtroppo se vogliamo i quartieri vicino alle stazioni hanno subito ultimamente anche dei grossi cambiamenti se vogliamo sociali organizzativi e io sentivo che quella location non 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 corrispondeva al mio al mio ideale di studio al mio anche target se vogliamo di come volevo organizzare l'attività odontoiatrica perché me la immaginavo come una clinica moderna nuova fronte strada in una situazione molto centrale quindi con con molto coraggio abbiamo trovato un locale fronte strada quindi al piano terra era un'ex lavanderia dismessa da parecchi anni e l'abbiamo presa siamo in affitto e abbiamo fatto un contratto molto lungo insomma i due classici dodici anni che poi ci hanno permesso quindi di organizzare anche una sorta di piano di ammortamento delle varie spese e è stato un investimento molto grande insomma diciamo che importante perché da zero abbiamo creato quella che oggi è la nostra nostro studio la nostra clinica che conta di un'area extra clinica iniziale da qui dove si entra in cui c'è una sala d'attesa e poi successivamente una segreteria e da questo corridoio poi si accede con una porta di cristallo all'area clinica l'area clinica io anche lì ho voluto in qualche modo che il paziente nel passare dall'area clinica all'area extra clinica percepisse come dire un qualcosa che cambiava la professionalità si doveva percepire ancora di più prima c'era l'accoglienza e quindi ho voluto giocare anche su quello che possono essere le emozioni primarie che un paziente che può vivere entrando dal dentista e quindi ho cercato di creare un luogo abbastanza accogliente abbastanza di calore con il legno che in cui il paziente si poteva sentire in qualche modo coccolato e poi una volta entrati nella zona clinica un qualcosa di più minimale più assettico se vogliamo per trasmettere professionalità pulizia tutte cose che nell'ex studio di mio padre che mi ha permesso di vivere in qualche modo e quindi non posso rinnegare ma che non andavano più bene non andavano più bene i colori non andavano più bene le piastrelle non andavano più bene gli spazi e mio padre ha creduto un'altra volta in me mi ha accompagnato e oggi siamo qua al punto che quasi che questa struttura di nuovo ci sta stretta e non vi nego che la voglia di ampliamento è nell'aria lascio qui la cosa per scaramanzia però è nell'aria l'aria clinica è sviluppata si sviluppa con una zona centrale che anche lì per me è stata la svolta io quando facevo il medico quando ho fatto mi sono laureato come medico ho fatto una tesi in radiologia e soprattutto utilizzando la TAC e quindi io una cosa che avevo in mente assolutamente era la combine che assolutamente doveva entrare nella mia clinica nel mio studio e quindi dopo tutti questi sforzi nonostante tutto abbiamo fatto un ulteriore sforzo ed è arrivata la combine prima avevamo un ortopantomografo e oggi abbiamo ormai da un anno questa combine che è stata la svolta anche clinica dello studio e io l'ho piazzata lì al centro come se fosse una statua al centro di una piazza in modo tale da far percepire al paziente questa mia voglia di rinnovare di tecnologia e la mia passione per la radiologia e diciamo che questo si sente molto perché appena uno entra la vede bella avanti a sé assolutamente ecco adesso Massimiliano l'ha buttata lì quasi come se fosse un po' una battuta in realtà non vi dico per carità però insomma il progetto è quello di ampliare ulteriormente lo studio e non solo nel senso che ci sarà anche un altro passaggio importante l'anno prossimo dico bene Massimiliano sì perché allora altro aspetto importante è questo mano a mano che si fanno questi percorsi di organizzazione si vanno a toccare tanti aspetti come quello finanziario la gestione finanziaria la gestione con con il commercialista di come pianificare anche la fiscalità dello studio e anche lì ho dovuto fare dei ragionamenti come dire controintuitivi anche un po' difficili perché perché io ho ereditato uno studio di commercialisti straordinari bravissimi di Ancona che hanno sempre assistito mio padre da sempre ma che proprio domani mattina ho un meeting con loro ho una riunione con loro insieme al consulente del lavoro perché li sto portando a far sì che loro possano aiutarmi ad aprire un SRL e anche questo è un passaggio importante che in qualche modo valorizza lo studio perché anche questo è un aspetto che io in maniera indiretta vedendo dei colleghi di mio padre che sono andati in pensione per vari motivi hanno chiuso la loro attività e poi si sono trovati con poco niente in mano perché purtroppo l'attività dell'odontoiatra classica di una volta all'interno dello studio del suo studio personale nel momento che c'è un passaggio generazionale o la conclusione di una vita lavorativa se non c'è un contenitore organizzato che esiste veramente e questo contenitore può essere solo un SRL si rischia di tramandare o di cercare di vendere una scatola vuota e quindi questo è un aspetto molto importante che io se riesco a organizzarlo adesso che ho 38 anni magari per quando ne avrò 89 che sarà grosso modo l'età pensionabile di quella volta almeno avrò qualcosa da vendere ti auguro che sia prima ma si lo auguro anch'io ma 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 l'andazzo non è quello si vedrai vedrai bene dico solo una cosa velocemente uno dei motivi è uno dei fattori che ha portato anche alla scelta di passare a SRL e anche l'aver raggiunto un determinato livello tale per cui se no sarebbe scusate il termine ma un po' spararsi in un piede rimanere no rimanere come studio monoprofessionale o comunque come studio associato ecco ci sono dei parametri ci sono dei parametri che sono dati per esempio in maniera proprio spannometrica anche se quando si parla di queste cose non ha senso fare questo tipo di ragionamento però per capire ci sono dei parametri legati al fatturato e all'imponibile diciamo che già con quelli in mano possiamo capire e sapere già se possiamo passare a SRL o meno e tutte queste conoscenze in realtà per me completamente nuove adesso grazie anche dei corsi che hanno fatto con OSM è stato molto significativo molto importante il rapporto che ho creato seguendo i corsi del dottor Beretta per esempio il dottor Daniele Beretta è una persona speciale è una persona speciale che che all'interno della sua carriera ha intrapreso forse grosso modo alla mia età un percorso più percorsi che lo hanno portato oggi a essere veramente un punto di riferimento per noi odontoiatri dal punto di vista organizzativo dal punto di vista dell'efficienza clinica addirittura dell'ergonomia clinica di 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 tantissimi aspetti che ruotano intorno la vita dell'odontoiatra e nei suoi corsi lui da tutto da tutto se stesso da tutta la sua passione tutta la sua conoscenza tutti i materiali possibili immaginabili sono stati molto importanti è meraviglioso il tour che si fa a fine corso nel suo studio io l'ho fatto ho fatto tre corsi e per ben tre volte io potevo anche andare la prima volta a vedere il suo studio e poi non andarci più e andare e tornare a casa prima invece io ho preferito rimanere lì tutte le tre volte perché ogni volta che tornavo in quello studio avevo come modo un'ottica diversa degli occhi diversi per guardare tutte le finezze tutte le particolarità che lui ha applicato dalla progettazione all'organizzazione è un qualcosa di unico unico quasi che varrebbe fare il corso solo per poi andare a fare il tour nello studio di Beretta guarda Bassimiliano è un valore aggiunto enorme enorme e non lo dico perché no? voglio dire Daniele Beretta è nostro partner nostro docente e ovviamente nostro cliente perché lui continua ad esserlo ma perché andare a vedere degli studi che hanno raggiunto un livello di organizzazione di funzionamento molto elevato è un arricchimento enorme e poi tenendo anche conto che Daniele Beretta è uno qui se girando e guardando si fa una domanda voglio dire no? forse si fa più fatica a fermarlo che non a sollecitarlo no? nel senso che ti spiega qualsiasi cosa bene andiamo avanti nel nostro percorso direi e oh scusate bene c'è una domanda che dice quali sono stati i timori e i dubbi che avevi prima di intraprendere il percorso formativo con OSM Dental beh direi che in parte abbiamo già risposto anzi diciamo che l'ho detto subito si 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 intraprendono un percorso si intraprendono e si comprano perché si pagano delle idee progetti e e non è e non è e non è che siamo sempre abituati a a comprare qualcosa che non tocchiamo poi alla fine tocchiamo tutto con mano però all'inizio niente e quindi i dubbi erano quelli certo senti cos'è che è cambiato da quando hai iniziato a lavorare qualcosa hai già detto ma allora a livello concreto se vogliamo partire subito da quello ma in realtà diventa a quel punto marginale sicuramente anche per partare di numeri il fatturato è ovvio che io tra l'altro ho tante variabili da inserire nella costruzione di questo fatturato perché non fosse altro che per la parte il covid che ci ha in qualche modo ibernato un anno e mezzo un anno di attività però se vogliamo io ci ho messo prima il cambiamento della location ci ho messo uno studio completamente nuovo ho aumentato le tecnologie ho aumentato anche il personale ma nel frattempo mettevo anche in pratica tutto quello che QSM mi stava dando e quindi la somma di tutto questo la somma di tutto questo è stato un aumento di fatturato poi ovvio dal punto di vista personale la mia le mie capacità il fatto anche se vogliamo io avevo questa predisposizione ma non riuscivo organizzarmi a farlo però grazie a Luca abbiamo capito che era importante che ogni tanto stessi dietro una scrivania piuttosto che di fianco al riunito anche questo è un paradigma che va va sfattato va cambiato cioè nel senso che ci sono anche ci sono anche dei ci saranno dei colleghi dei miei colleghi che questo aspetto non lo concepiscono non lo hanno nelle corde non lo vogliono sviluppare e allora per loro è sicuramente consigliabile magari già lo stanno facendo devono fare i consulenti però anche fare i consulenti un conto farlo in una struttura che ti accoglie che ti fa sposare in qualche modo ti coinvolge nello sposare i valori è un conto essere un semplice tra virgolette mercenario entrare con la valigetta fare le tue prestazioni uscire prendere il dovuto e non e non e non essere coinvolto in quello che fai quindi questo è un aspetto particolare quindi dal punto di vista personale ci sono stati cambiamenti l'organizzazione dello studio lo studio c'è sempre stata una grandissima armonia in tutto questo c'è mio padre che con la sua esperienza ormai viene a lavorare con una scioltezza e con una con una sì direi scioltezza tale per cui lui è estremamente e questa scioltezza la trasmette al personale e che questa scioltezza diventa armonia diventa anche ilarità se vogliamo tra di noi e forse sono io quello un pochino più precisino un pochino più ecco che rompe un po' le scatole però però ci vuole ci vuole anche quello e ecco questi sono i cambiamenti più 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 bene senti per quale motivo prima di tutto consiglieresti a qualche tuo ai tuoi colleghi di fare di 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 intraprendere un percorso del genere e perché allora diciamo che da tutto quello che ho detto fino adesso diciamo che è abbastanza palese che che io sia soddisfatto e quindi se un collega mi chiedesse delle informazioni o dei o comunque se se vale la pena intraprendere questo percorso io direi certamente sì una cosa però va detta che che la prima cosa da fare però è esserne convinti e in qualche modo essere predisposti perché perché appunto il 60 70 per cento di questo percorso lo fa lo fa chi chi abbraccia questo tipo di di idee di di organizzazione ci vuole una predisposizione perché altrimenti sono soldi sprecati ah beh guarda con la sola imposizione delle mani non non riusciamo ad ottenere nulla è un lavoro di squadra cioè è un lavoro che va fatto insieme è un lavoro in cui ci si siede tra virgolette dalla stessa parte della scrivania e si lavora insieme però bisogna lavorare insieme ovviamente perché se no non 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 si ottengono i risultati no bisogna mettersi lì ci si rimboccano le maniche della camicia e come dire si mettono le mani in pasta insieme e si lavora e si lavora insieme noi noi crediamo molto in questo cioè non è solo andare a dare sistemi metodologie informazioni indicazioni eccetera e che quelle ci vanno ma è poi proprio mettere le mani in pasta insieme cioè mettersi lì e e fare il lavoro e lavorare esatto e fare il lavoro insieme quindi sì bene mi fa molto molto piacere guardate e una cosa che credo che all'inizio come è successo con Massimiliano possa succedere anche ad altri no un po no lascia lì con dei punti di mano andano cioè farò bene non farò bene funzionerà non funzionerà e quindi penso che sia molto importante no una serata come questa con Massimiliano che poi venga a raccontare la sua esperienza perché mi rendo perfettamente conto che all'inizio ti piomba uno che comincia a dirti guarda adesso cambiamo un sacco di cose e uno dica ma secondo me ma perché ma si assicuri cioè ma poi mi chiede pure dei soldi tra l'altro questo qua manco viene gratis e quindi insomma no però insomma funziona noi sappiamo che funziona e quindi noi siamo assolutamente completamente convinti di quello che stiamo facendo e poi ci fa molto piacere quando no un cliente con cui lavoriamo molto bene viene a raccontare che cosa è successo e poi si crea anche un rapporto voglio dire che non è solo non lo dire il consulente il cliente no ma diventa più più stretto no più assolutamente più più amicale ecco no diventa un po e e quindi in quel momento lì si va ancora più avanti a mio modo di vedere no diventa ancora più bene se si intanto visto che eh ci stiamo avvicinando no allo scadere del nostro del nostro tempo vedo che qui c'è una domanda da parte di Bert che saluto buonasera che dice buonasera dopo quanto tempo ha deciso di cambiare l'assetto dello studio dall'inizio della carriera e il papà come ha regito allora come come dicevo io allora approfitto per per ribadire che che mio padre è stato è tuttora un collega un padre straordinario nel nel nell'aver compreso la necessità ma forse perché lui non era una cosa che che voleva fare lui personalmente di conseguenza mi ha lasciato fin da subito quando sono entrato nello studio quindi da appena laureato degli spazi per esempio una cosa una cosa importantissima io dovevo essere la novità ha capito che lui facendo tutto quindi dalla chirurgia alla conservativa all'implantologia all'implantologia avevamo un suo collega che veniva adesso la faccio tutta io aveva protesi tutto quanto però con me aveva fatto io ancora non ero neanche laureato in odontoiatria ma ero già laureato in medicina e con lui ho partecipato a un master nell'utilizzo del laser questo macchinario che molti magari snobbano ma che in realtà fa tanto se conosciuto bene io praticamente ero l'uomo del laser l'uomo del futuro e quindi nel suo studio di ormai più di 25 anni di esperienza quella volta oggi 30 io ero l'addetto al laser e poi sono entrato in punta di piedi come suo igienista lui non aveva un igienista noi oggi ne abbiamo due io quella volta quando sono arrivato era papà che faceva le igieni insieme alle altre cose dello studio e invece io ero diventato il suo igienista e anche lì è stato un modo per farmi venire a contatto con tutti i suoi pazienti in maniera delicata senza avere grandi responsabilità ma allo stesso tempo con una funzione diciamo cruciale facevo la mano conoscevo i pazienti li toccavo capivo dove mettermi seduto come non essere goffo per poi quando sarei andata a fare le prime otturazioni poi i primi interventi e io poi appunto avevo sto laser che era la macchina del futuro dopodiché mano a mano che prendevo campo nella parte operativa sempre di più mi avvicinavo al discorso della gestione e quindi è stata una cosa quasi automatica ok bene allora qui c'erano anche come vedete in questa slide una serie di temi che però voglio dire abbiamo già quasi tutti affrontato ecco c'è una cosa che Massimiliano ha detto e che io vorrei ancora sottolineare perché no la vedo e la vedo Massimiliano voglio dire e cioè il tuo livello di crescita professionale non sarà mai superiore al tuo livello di crescita personale e io aggiungo ancora che il tuo livello di crescita personale e professionale non sarà mai superiore alla crescita del tuo studio cioè diciamo che lo studio è la è lo specchio è lo specchio è lo specchio infatti se vogliamo se volete questa cosa vi dico questo perché uno potrebbe dire ma ma qual è quello studio che ha bisogno di questa cosa e come si fa a capire se uno studio può essere in grado di fare questo percorso ma in realtà tutti gli studi hanno le potenzialità di farlo perché partiamo dal presupposto che il vero valore aggiunto non bisogna dimenticarlo sono le nostre mani e la nostra testa quindi noi professionisti dobbiamo essere ad un certo livello e sono sicuro che l'odontoiatria italiana può andar fiera di essere ad un buon livello mediamente poi ovviamente ci sono le situazioni altissime e le situazioni bassissime ma la media è molto buona di conseguenza premesso che c'è questa questa premessa questo aspetto fondamentale poi è naturale e viene da sé che le potenzialità per aumentare per crescere per rinnovare per migliorare per espandersi ci sono ci sono per forza perché siamo noi che siamo predisposti a farlo perché siamo noi che abbiamo queste capacità tutto sta a saperle contenere e veicolare verso un certo tipo di di percorso penso sì gli studi la media degli studi dentistici come potete immaginare ne vedo tanti al di là dei miei clienti voglio dire poi ho contatti con tanti e quindi anche dei titolari spesso non si rende conto di quali sono le reali potenzialità del proprio studio e le proprie potenzialità le proprie e quelle del proprio studio che sono enormi che sono veramente enormi assolutamente e non è mica necessario essere di supergegni o o qualcosa del genere per farlo basta solo mettersi lì prendendo no appoggiando la scala al muro giusto al muro giusto come dicevi tu Similiano e farlo e farlo con voglio dire anche con l'aiuto di qualcuno che porta conoscenza esperienza eccetera quindi la conoscenza si acquisisce no anche voglio dire anche in campo di sprettamento odontoiatrico no quanti corsi professionali no vengono fatti dagli odontoiatri ecco la conoscenza invece extraclinica quella per far crescere il proprio studio dal punto di vista dell'organizzazione delle persone eccetera si acquisisce nello stesso modo e poi si applica e non c'è nulla di trascendentale e l'unica cosa è decidere di farlo assolutamente se no appunto come dicevo prima come dicevo quel famoso comido con la sola imposizione delle mani non ti ungure anche la camicia voglio dire non si può fare nulla non esiste bene zona di comfort il tuo consulente è riuscito a farti allontanare dalla poltrona vicinale della schivania direi proprio di sì e ce l'hai già detto il consulente che cammina al tuo fianco è una cosa di cui abbiamo parlato quindi io direi ci sono altre domande perché se non ci sono altre domande io passerei a chiudere dicendo che noi siamo comunque sempre a vostra disposizione questa questo questo webinar del lunedì sera come tutti gli altri sarà presente a breve sul nostro canale youtube dove troverete anche tra l'altro tutti i webinar delle altre volte se avete piacere di andarli a vedere e noi siamo qua a vostra disposizione se avete delle domande poi ulteriori se avete delle qualche cosa da chiedere al di là di questo contattaccesi siamo a vostra disposizione e con grande piacere io ma non solo io voglio dire tutto lo staff di osm dental e tenete conto che vi piomberemo a giosso con il nostro marketing micidiale ma vi garantisco che lo facciamo sempre con molto garbo quindi state tranquilli bene allora io ringrazio tutti prima di tutto ringrazio massimiliano per la sua testimonianza per averci raccontato la sua storia che è molto bella ma ha ancora tante altre puntate da andare a vedere e buonasera a tutti quanti e grazie e grazie ancora massimiliano a Grazie.